In un contesto internazionale sempre più delicato e con gli occhi puntati sull'Ucraina il ruolo del gasdotto transadriatico che dovrebbe portare in Italia il gas dei giocimenti dell'Azerbaijana diventa decisivo. In un seminario promosso a Roma dal Centro Studi Americani e dalla rivista Formiche si è discusso delle implicazioni geopolitiche ed economiche del progetto. TAP è un progetto strategico per il nostro paese e per l'Unione Europea che lo ha incluso non a caso nei cosiddetti progetti di interesse comune. Per noi è essenziale la realizzazione del gasdotto e accelerare assolutamente le valutazioni di impatto ambientale, nella massima sicurezza ambientale che il Ministero del Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente stanno curando con grande attenzione. Al governo però i vertici di TAP Italia chiedono un passo concreto anche perché a colmare i gap decisionali del nostro paese potrebbe essere la Croazia che si candida a DAB europeo del gas. Abbiamo chiesto da alcuni mesi un'iniziativa forte di coordinamento per non lasciare la regione e gli altri elementi locali soli. Avete visto anche questi giorni le prese di posizione del Consiglio regionale tra Maniglio e Romano che invitano a un coordinamento, un ruolo forte di coordinamento politico, quindi che nulla a che vedere con la scelta tecnica di San Focco o di altre località ma di allineamento politico su un approdo che trovi il consenso di tutti. Chiedete in qualche modo l'apertura di un tavolo politico? Assolutamente, lo chiediamo mai da alcuni mesi, credo che siano tempi maturi ormai perché il tavolo possa essere formato.